Intanto devo fare i complimenti a chi ha scelto il sottotitolo di questa perché l'identificazione Il Moloch è veramente non solo evocativa ma anche molto efficace. Io conosco bene la mitologia fenicia e devo dire che Moloch in realtà era una divinità cananea e era ubicata nella Genna che poi per Gesù sarà l'identificazione dell'inferno. Aveva questa caratteristica, voleva sacrifici di bambini. I cananei cosa facevano? Sgozzavano i bambini, poi li ponevano nelle mani di questa divinità di metallo e li bruciavano. Mentre i fenici avevano un'altra caratteristica, adoravano sempre questo Moloch, però i bambini non li sgozzavano, li ponevano vivi nelle mani di metallo di questa statua e poi li bruciavano vivi. La cosa interessante è che questo avveniva in luoghi che si chiamavano Tafat, cioè Tafat vuol dire bracere, non questi santuari. Ce n'è stato uno anche qui in Sicilia, a Mozia, dove i fenici erano ubicati. Qual è la cosa interessante dei fenici? È che loro per non sentire le urla strazianti dei bambini facevano rullare i tamburi ed era una forma di ipocrisia. Anche oggi rullano i tamburi, rullano di tante stupidaggini, di diritti, anche di mistificazioni ideologiche, ma non vogliono sentire le urla di quei bambini. Intanto considera che Moloch, in aramaico Moloch, vuol dire re signore con la S maiuscola e un signore nella genna con le corna, che cosa ti può mai ricordare? Che questa cosa poi abbia un riscontro satanico è impressionante. A parte tu citavi il libro, c'è un'altra cosa che a me è sempre colpito. Nelle dieci piaghe dell'Egitto, sapete che lì il faraone è l'impersonificazione del demonio, il popolo israeli è l'uomo che esce da questa prigionia grazie a Dio. Quindi c'è questa metafora. A un certo punto, tra le varie piaghe, mi sembra tra la settima e l'ottava, tra la grande e nelle cavallette, a un certo punto, nelle trattative che fa Mosè, il faraone dice, vabbè facciamo così, mi hai convinto. Andate via, però andate via voi, i bambini restano. I bambini restano. I bambini li voglio io. Ora, ovviamente Mosè dice no e arriva l'ottava, però è impressionante questa impersonificazione del demonio. Il faraone che dice, va bene, andate via voi, i bambini li voglio io. Ma la strage degli innocenti. Come la strage degli innocenti. Nel senso reale è il termine. Ma perché diciamo che ha un risvolto anche terribilmente spirituale? Perché in America, The Satanic Temple, la TST, questa setta satanica, una delle più importanti. Ufficiale, cioè che non si nasconde. Ha rivendicato l'aborto come un rito, un rito religioso. Jane Hessex, che è la portavoce della TST, la portavoce che si occupa dei diritti riproduttivi, perché questa chiesa, tra virgolette, ha anche un settore dei diritti riproduttivi, ha spiegato bene che per loro è come un rito. Quindi ha detto, come per un cristiano sarebbe assurdo limitare o condizionare il battesimo, un sacramento di questo tipo, per loro è assurdo limitare l'aborto. Tant'è vero che hanno invocato la legge sulla libertà religiosa contro tutti quei provvedimenti che in qualche modo ostacolano l'aborto. Le immagini che stiamo vedendo è proprio questa setta diabolica, questa setta satanica, se nel frattempo la facciamo anche vedere, che a Campidoglio, stiamo parlando qui nella sede a Washington del governo, hanno fatto Satana, non ha i diritti, cioè nel senso che il satanismo deve avere i diritti. hanno inscenato questa sorta di messa nera dentro proprio il Campidoglio, satanisti che inneggiano a Satana, parlando nelle loro lingue e tutto il resto. E queste immagini che noi stiamo vedendo, con questo specie di piccolo demonio in una culla, perché fu proprio nel periodo natalizio, proprio quest'anno, hanno ricevuto, proprio il Biden ha ricevuto questa setta perché loro hanno il diritto nella libertà religiosa di inneggiare a Satana, quindi è guaglianza, tolleranza e passione. Il Moloch, con le corna, che aveva il Tafat nella Genna, è anche il padre della menzogna. Tutta questa fuffa del politicamente corretto è basata, è una maschera, una finta maschera di bene. Dietro c'è razzismo, sfruttamento, capitalismo selvaggio, assenza di scrupoli, assenza totale di scrupoli, morale a doppio standard, cinismo, esattamente, è veramente disgustoso. Ecco perché è un bene falso, è la falsa maschera del bene che mette Moloch. L'unico bene vero e l'unica cosa che può liberare l'uomo, a cominciare da questi bambini, è Gesù Cristo. Ma non la fede cristiana, esatto. Proprio Cristo. Esatto. Dico, si stava meglio quando c'è la Moloch? No. Allora, noi dobbiamo anche rendersi conto della grazia che abbiamo avuto. Dio ci ha liberato da quel mostro con le corna, il quale ovviamente c'è ancora fino a che non verrà rinchiuso per sempre. Noi, grazie a Dio, penso, ci stiamo avvicinando a tappe forzate verso la chiusura. Ma oggi il Moloch ha volti diversi. Noi dobbiamo saperli leggere a volti diversi. Hai ragione. Perché, in base a che cosa, è più cruento, non c'è ombra di dubbio, più emozionalmente impattante una mamma che uccide una bambina di 5 anni a coltellate. Ma io non so se la gente sa come avviene un aborto, non vi faremo vedere le immagini, ma io le ho viste. Sono qualcosa di terribile in cui si vede uno smembramento di un bambino nel grembo, che poi viene risucchiato e tutto il resto, che cerca di difendersi. Quindi, perché? Perché si deve garantire un diritto di qualcosa del genere e si chiama invece l'omicidio e tutti vorrebbero morta la madre di questa bambina che in maniera terribile ha soppresso sua figlia. Perché questi due pesi, queste due misure? Hai perfettamente ragione. Intanto c'è un film molto bello, si chiama Unplanned, che io suggerisco tutti di vedere. Ma in realtà, se passa il principio che tu puoi uccidere, non c'è differenza. Prima avevano tentato ponendo dei termini, tre mesi, sei mesi, nove mesi. Poi, non so se vi ricordate, siamo arrivati addirittura al partial abortion. La Clinton ha pubblicamente detto che finché il bambino ha la testa dentro e mezzo fuori e mezzo dentro si può uccidere. Quindi, con una iniezione. Allora, a questo punto, che senso ha? È chiaro che è soltanto una convenzione stabilire quando secondo loro è vita. È vita fin dal principio. Quindi fa più impressione una madre che uccide, ma sono circa 50 milioni all'anno nel mondo. Ecco, diamo questo dato, che è terribile. E quasi tutta la popolazione italiana, ogni anno, spariscono. Per cui, non c'è differenza. E guarda che una volta che passa il principio, dopo si arriverà a dire che non c'è bisogno che sia mezzo fuori e mezzo dentro. Magari, magari un minuto appena è uscito. Poi si dirà cinque minuti. Ma ha senso questa cosa. Ma non solo non ha senso, ma non è neanche giustificabile solo l'idea. Cioè, chi può avallare scientificamente? Moloch. Moloch. Allora, se non comprendiamo che siamo in un ambito spirituale, questa cosa è un delirio. Cioè, non ha senso. Ma siccome non è razionale, e quindi è preternaturale, quindi è spirituale. Esatto. Altrimenti non si capisce. In quella fotografia, falla rivedere. In quella fotografia, ecco. Sai che cosa manca? I fili. Manca il magistrato. I fili. Ah, i fili. Hai presente, qui siamo in Sicilia, questi sono pupi. Sì. Sono marionette. È vero, è vero. Sono burattini. Chi è il puparo? Questo è l'aspetto interessante. E noi stiamo vivendo, vedete, una dittatura, la peggior dittatura della storia dell'umanità. Peggio del nazismo, del comunismo. Perché? Perché è strisciante. Perché innanzitutto è una dittatura strisciante. È una dittatura transnazionale, globale. Non è la Germania, la Russia, la Cina. Ed è senza volto. Il tiranno non ha volto. Quindi è la peggiore. Perché non possiamo pensare che Soros, Bill Gates, il Bill Denberg Group, la Trilateral Commission, il G7, la Von der Leyen. Questi sono pupi. Avete pensato il teatro dei pupi? E qui in Sicilia calza perfettamente. Chi è il burattinaio? Ora, perché non ha un volto questo burattinaio? Non è umano? Ma poi c'è un altro aspetto inquietante. Vedi, anche l'uomo più cattivo di questa terra, il più perverso, volete Soros? Quello che volete. Beh, è uno che comunque vorrebbe lucrare, no? Prima o poi dalla propria malvagità. Ma chi è? Se tu guardi qui, vedi dei processi che durano 100, 200, 300, 400 anni, no? Oggi noi vediamo una cosa e diciamo, ecco, vedi, questo è il frutto di un processo iniziato 200 anni fa. Ma chi è che non ha tempo? Chi è che vive nell'eternità? Chi è che può permettersi di fare un progetto a 500 anni? Sì, sì. E non ha volto. Sì, sì.